PIXELMON 3.0.4 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 compatibilities list e ci scarichiamo questo file qui quindi a not and out in items praticamente vi da una patch che è compatibile quindi vi rende la nee compatibile scaricate questo file qui a questo punto dovreste mettere nella cartella mods 1.64 questi tre file quindi la code chic not and out in items e pixelmon e possiamo avviare il nostro minecraft ricordatevi di avviarlo con forge ok? quindi verificate che qui ci sia scritto 1.64 forge9 eccetera eccetera ora lo avviamo ora vi farò vedere che è funzionante nel frattempo ah ok si vi scaricherà anche un'altra piccola libreria del tutto normale tranquilli nel frattempo vi dico anche un'altra cosa state attenti se usate pixelmon SP perchè su alcuni server potrebbe darvi problemi quindi potrebbe andare in conflitto e farvi crashare subito per risolvere questo problema anziché fare add server e poi fate join to server potete fare semplicemente direct connect mettete l'ip e quindi nella maggior parte dei casi non vi assicuro che funziona al 100% però nella maggior parte dei casi vi aiuterà ad evitare il crash anche se state entrando sui server SP quindi non funziona se siete SP sui server premium ok? detto questo vedete qui è cambiata la dicitura minecraft 1.64 però ci riconosce forge e 6mod in particolare ci riconosce codechick, note and out items e pixelmon ok? ragazzi che dirvi questo tutorial è stato molto breve è stato molto veloce è stato molto semplice spero non li facciamo per mac perchè non ho un mac su cui farvelo quindi non posso aiutarvi per chi ha mac se vi è piaciuto il tutorial fatecelo sapere solo l'unico modo è con i pollici in su veniteci a trovare su facebook sul ts ormai abbiamo preso in gestione anche una pagina di un amico veniteci a trovare quindi sulla nostra pagina facebook su pinterest siamo sul ts quasi tutti i giorni e insomma fatevi sentire ci sta facendo veramente piacere tutta la partecipazione che state dando e se avete proposte per nuovi tutorial o richieste particolari fatecelo sapere io per oggi vi saluto vi ringrazio per averci ascoltato e spero che con questo tutorial siamo stati molto molto utili per il vostro game ciao a tutti squali e pesciolini alla prossima grazie a tutti